Un stile, un gusto, un gesto sempre rannicchiato, rannicchiato è un partito passato tuo, esplicitamente tuo, tu sei sempre nato così, è rannicchiata, si nasconde, si fa carico di tutto e di tutti, della polvere della casa e del mondo, del condomino e del mondo, sto cercando gli occhiali, però io non credo che una dichiarazione di poetica possa andare avanti soltanto con gli stereotipi, questo discorso poesia civile, poesia invece intimista, perché c'era un periodo in cui avrebbero detto questa è una poesia intimista, no, la tua è una poesia civile, perché la poesia civile è quella che ha dentro di sé un cuore maidomo, sempre testo, e io te lo dimostro anche tornando un po' indietro alla valorazione dell'ania, perché le cose vanno fatte, cioè ecco qua, ho preparato soltanto due o tre poesie di questo libro, Resistenza, Resistenza è come titolo, è già un termine, un concetto forte, sembrerebbe, come dire, appannaggio soltanto di una poesia, la tua resistenza è diversa, che resistenza è? Ogni giorno esige la sua dose di resistenza e subito, come fa sempre la pezzola, grazie, lei cerca comunque delle metafore altre, delle immagini altre, delle analogie altre, lei non ha il pugno chiuso, quindi lei, la sua resistenza è una resistenza strana che o è nel quotidiano, ed è ammirevole, riguarda tutti, però riguarda soprattutto le donne che devono fare due lavori, se non tre, tre, perché uno è quello domestico e uno è quello fuori, però c'è la subita che mi suggerirebbe, c'è anche quello dell'anima, quello della crescita interiore, quindi non è una cosa da poco, quello è un altro lavoro.